Bentornati a tutti ragazzi, questo è un video speciale perché sono arrivato a 500 iscritti dopo quasi 6 anni dall'apertura di questo canale, è tanto tempo. Cavolo, tra l'altro adesso che sto registrando vedo che gli iscritti sono già 508 e davvero sono aumentati tantissimo in questi ultimi due giorni o quello che è, quindi davvero non me l'aspettavo. In questo video vi darò anche degli annunci importanti, quindi guardatelo fino alla fine, mi raccomando. Questi iscritti a qualcuno potranno sembrare pochi, soprattutto per il numero di video e il tempo da cui questo canale è aperto, però contando che è un canale italiano di Splatoon io sono veramente contento di quello che sono riuscito a fare in questi anni. Ho iniziato su Splatoon 1 facendo dei video in inglese perché così avevo avuto voglia di farli, non mi ricordo in realtà perché iniziai, però avevo comprato la scheda di acquisizione, mi ero messo un po' a registrare in qualche modo, non avevo neanche un buon computer. E poi dopo, a un certo punto, mi sono reso conto che in Italia non c'era nessuno che portava seriamente Splatoon. E allora, nonostante sapessi bene l'inglese, decisi di cambiare lingua e di iniziare a fare video in italiano per permettere alla community italiana di migliorare e dare un po' di spunti per far crescere Splatoon nel nostro paese. Sicuramente se avessi continuato a fare video in inglese adesso avrei più iscritti, avrei già raggiunto i 500 magari da qualche anno. Però sono contento di essere passato all'italiano perché ho potuto costruire dei legami con la gente del mio paese e appunto essere un protagonista volendo della crescita della community competitiva, o almeno spero di esserlo e spero di continuare a esserlo in futuro. Con i miei contenuti cerco sempre di mantenere una certa serietà, di insegnare a giocare, ma anche di far divertire, sia su YouTube, sia su Twitch come ho fatto in passato e poi ci torniamo. E anche su Discord, dove ho una community dove sempre più cercherò di portare contenuti educativi, di far imparare a giocare, ma anche di organizzare partite, di aiutare a trovare squadre. E sono davvero contento che tutto questo sia successo. Ecco, adesso passiamo agli annunci. Innanzitutto, visto che sono arrivato a 500 iscritti, voglio fare un video speciale. E come speciale ho scelto di fare un Q&A, ovvero domanda e risposta. Sotto questo video potrete scrivermi le vostre domande. Potranno essere su Splatoon, sia cose tecniche sia curiosità. Dopotutto avete davanti un giocatore competitivo, il giocatore che ha vinto più l'anno in Italia, quindi potete chiedermi tante cose. Ma anche sulla mia vita privata. Anche se chiaramente, visto che voglio mantenere un po' la mia privacy, non è detto che possa rispondervi a tutto. Però, se mi fate delle domande interessanti, risponderò molto volentieri. Poi, secondo annuncio, sarò a Milano il 10 settembre, sabato, il giorno dopo il lancio di Splatoon 3, per un evento dal vivo. Al Namex Club, dalle 15 alle 19, in Intubers hanno organizzato questo evento. Che avrà varie fasi, avrà un quiz, avrà un talk show su Splatoon, avrà delle partite insieme. Quindi se siete lombardi, se siete vicino a Milano, volete venirmi a trovare, il 10 settembre è in Namex Club. Ho scritto anche le informazioni su Discord e ve le lascerò chiaramente anche in descrizione. Quindi fatevi vedere. E se non potete venire, comunque ricordatevi che l'evento sarà streammato. E anche lì sul mio Discord, chiaramente, ci saranno tutti i link. Il terzo annuncio, questo in realtà ormai l'avrete visto da diversi giorni, è che ho cambiato nome al canale. Prima si chiamava 8-bit Simo Mario Splatoon 3 Ita. In realtà il canale ha cambiato nome più volte negli anni, perché inizialmente si chiamava Simone Chiocchetti, il mio nome e cognome. E poi dopo più volte era cambiato. Prima era Simo Mario, poi era 8-bit Simo Mario. Poi ci avevo messo anche Splatoon 2 Ita, poi era diventato Splatoon 3 Ita. E adesso è diventato 8-bit Splatoon. Perché il mio nickname online è passato da Simo Mario a 8-bit. Avevo anche creato il mio secondo canale, a cui vi invito a iscrivervi, che è un canale di così, di varietà di videogiochi. Ho caricato già quattro video lì. Non ne ho messi tantissimi, ma in questi ultimi tempi chiaramente mi sono dedicato più a Splatoon. Ma lo terrò attivo, state tranquilli, pian piano. Quindi iscrivetevi. Quello l'avevo chiamato 8-bit e ho scelto quindi di mantenere lo stesso nome anche per questo canale, chiamandolo 8-bit Splatoon, per diversificarlo. E infine, l'ultimo annuncio importantissimo è che voglio riprendere a fare le live su Twitch. E riprenderò stasera stessa. Stasera stessa. Non ho ancora degli orari fissi, se devo dirla tutta, ma penso che probabilmente farò live dalle 21 alle 23. Non so ancora bene i giorni, per adesso le farò tutti i giorni, presumo, perché siamo quasi a Splatoon 3, poi insomma uscirà, chiaramente il 10 sarò a Milano e non ci sarà nessuna live. Però cercherò di farle con costanza, poi appunto magari vedrò di farmi una schedule, comunque vedrete sul mio Discord anche lì varie annunci eventuali dove spiegherò cosa farò e cosa non farò. Ci vediamo quindi stasera alle 9 su Twitch per una live di Splatoon. Penso che faremo una partita privata insieme. Ci vediamo il 10, sabato 10, a Milano per l'evento al Namex Club. Il canale si chiama 8-bit Splatoon. E domande qui sotto, importante, per lo speciale 500 iscritti Q&A che farò fra poco. Lo farò quando ci saranno abbastanza domande, quando avrò tempo, perché chiaramente ci sono altri video che devo fare nel frattempo, più le live. Quindi quando sarà il momento pubblicherò il Q&A. Fatemi le vostre domande. Grazie per aver seguito. Grazie per i 500 iscritti. Adesso puntiamo ai 1000. Mamma mia. Ci ribecchiamo al prossimo video. Grazie a tutti ancora. Io sono 8-bitto Splatoon. Ciao ragazzi. Ciao.